Ciao a tutti ragazzi, che è fuori gioco di Lukaku? Ma veramente? No, perché qua devi fare 35 tiri per vincere 2-1 Per vincere 2-1 l'Inter deve fare 35 gol Deve fare 35 gol Allora sì, il trentacinquesimo glielo danno Questa è la logica Spezia-Inter 1-1, due gol annullati per fuori gioco Lukaku e Lautaro, il palo del Toro Un'altra occasione proprio al 94esimo per Lautaro Lukaku si è mangiato 2 gol Il gol di Perisic, che quantomeno ci ha consentito di non perdere questa partita Ma ragazzi, 20 tiri in porta a 1 Oggi il possesso palla vi è piaciuto però Perché l'Inter ha fatto un sacco di possesso palla Quindi i criticoni spero possano stare zitti Dopo che si sono spappolati i fegati Dopo l'uscita finalmente da quella cagata della Super League Da parte di Zhang e di tutta la società nera azzurra Che dire ragazzi, l'abbiamo dominata la partita Ma se non butti la palla in porta non vinci Quindi inutile parlare di possesso palla Chi se ne frega del gioco, della bellezza Ci vuole sostanza Ora, meno male che Raspa Raspa, vecchio cuore nero azzurro Ci ha regalato questa goduria Oggi pomeriggio, ho visto tutta la partita Un Sassuolo innocuo e insignificante Fino all'ingresso di Raspadori Tra ore e poi cambia tutto Raspadori fa la doppietta E batte il Milan 2-1 E il Sassuolo rimonta Dopo le chiacchiere eccessive di De Zerbi Nel pre-partita E ci consente di andare a più 10 Quindi quantomeno Da questo punto di vista Insomma siamo stati bravi Però voglio dire Non va bene così ragazzi Non va bene perché sono partite Di vincere Quello che abbiamo detto tutto l'anno È che ciò che è cambiato Dallo scorso anno In generale dagli ultimi anni È che l'Inter finalmente Ha imparato a vincere queste partite Partite che un tempo Anche nell'ottimo percorso di Spalletti O soltanto l'anno scorso Lecce-Inter 1-1 La sconfitta col Parma L'Inter magari andava a pareggiare A perdere anche magari Quindi sono partite che Quest'anno a parte la Sampdoria Il pareggio col Udinese Insomma il pareggio col Parma L'andata Avevamo imparato a vincere Niente L'anno scorso pure col Bologna Abbiamo perso per dirvi E quindi l'1-0 col Bologna L'1-0 col Cagliari Il 2-1 col Parma Il 2-1 col Torino Tutte partite Il 2-1 col Sassuolo Che ci avevano fatto capire Quanto fossimo diventati bravi A risolvere certe situazioni E invece oggi no Ma ripeto Sfiga Fuori gioco Fuori gioco Palo Provedel Stasera quanto sei bello Provedel Hai parato tutto Voglio vedere che fai La prossima partita Se la prossima partita Lo Spezia ne prende sette Guarda Lascia perdere Cioè Provedel Ha parato tutto Ha parato tutti gli improperi Dei Nerazzurri I miei soprattutto Perché stasera Provedel Grandissimo Manuel Neuer Detto anche Provedel Allo Spezia Capito E di conseguenza C'è solo tanta sfortuna Però innanzitutto Quel gol non lo devi prendere Diego Farias Gran gol Tra l'altro complimenti Non devi lasciarlo tirare Poi Carese Bergamo E meravigliosi La papera di Andanovic De che? Sì certo C'è un'indecisione Ma è semplicemente Un bel gol Che nasce dal fatto Che tu lo lasci tirare Non devi lasciarlo tirare Poi lui è bravo E un ottimo giocatore Va in gol E gli fai Complimenti Assende tu un bel gol Che vuoi fare? La papera Andanovic L'ha fatta col Napoli Io non ho commentato la partita Per una serie di motivi Comunque L'ha fatta col Napoli Poi il principe di Danimarca Ci ha regalato un pareggio Io Per carità Pareggio di mentalità Di carisma Questa è la sedicesima gara di fila In cui non perdiamo Però Non sono stato poi così euforico Come tanti di voi Per il pareggio Perché questa squadra Che al novantesimo Tutta lenta A keeping Non tira Al novantaquattresimo Perde tempo Cioè La devi andare a vincere la partita Poi certo Se pareggi col Napoli In quel modo Con grinta e carattere Non ti posso dire nulla Però la devi andare a vincere Ci devi almeno provare E invece un Inter Che non ci ha provato col Napoli Oggi sì Fino al novantaquattresimo Un tiro di Lautaro E Lukaku Si mangia con la porta vuota Oggi purtroppo Lukaku Non mi è molto piaciuto Perché non ti metterà a saltare il portiere Tira All'ultima la tirata alta Romelu stasera Insomma Però io non lo critiquerò mai Perché è un giocatore che adoro Però insomma stasera Per quanto avesse anche segnato Su quel fuorigioco millimetrico di Hakimi Vabbè Così come aveva segnato il Toro Lì veramente È proprio Una spalla Ragazzi C'era il fuorigioco Una cosa ormai Basta che uno sia un po' piegato E fuorigioco Cioè a me mi ha rotto le scatole Questa storia Veramente Non voglio dire che non ci fosse Ci mancherebbe altro Fuorigiocchi c'erano Però Fuorigioco pure questo Cioè 35 gol Vince 2 a 1 Comunque Sì Complimenti allo Spezia Complimenti allo Spezia per la stagione Italiano è un ottimo allenatore La stessa grinta La stessa Stesso carisma Partecipa alla partita Come Conte E quindi si vede Anche gli abbraccetti Le spintarelle A inizio gara Si vede che sono dello stesso DNA Che vedono il calcio allo stesso modo Come piace a me Però lo Spezia Non ha fatto niente Stasera 15 minuti all'inizio partita Con gol compreso Poi non ha fatto nulla Se non difendersi Paolo Provedel salva sulla linea Su screener Lukaku Sempre Provedel Ismaili perde palla Va a chiudere su Lautaro Cioè Una buona difesa Dallo Spezia Un italiano Veramente Incluso al 100% Nel gioco Che ha fatto In modo che la squadra Non perdesse mai La concentrazione Un Inter Che non è stata cinica Che non ha messo La palla in porta Per più di una volta E che non ha vinto Questa partita Molto semplice Quindi Niente Meno male che il Milan Ha perso La Juve ha vinto 3-1 In rimonta Vabbè Poco ci frega Piuttosto vediamo la Roma Domani Contro l'Atalanta Che se dovesse vincere Potrebbe arrivare Al secondo posto In classifica E lì sarebbero Veramente Problemi Perché dovremmo Preoccuparci Dell'Atalanta Che arriverebbe Al secondo posto E diventerebbe Il problema principale Quindi non più Milan Juve Eccetera Loro Che fondamentalmente Erano loro Le problematiche principali Ultimamente Soltanto il Milan Perché la Juve Perde col Benevento Perde con l'Atalanta Appunto Diventa l'Atalanta Il problema Quindi forza Roma Dagli Roma Dagli Intanto Tanti auguri alla capitale Che oggi Compie gli anni Era il 21 aprile Del 753 A.C. Piccola digressione Storica 21 aprile De merda 2021 1-1 Spezia Inter Mannaggia La miseria Ragazzi Domani giocano le Romane Gioca anche La Lazio Contro il Napoli Io Sosterrò i nostri Fratelli Bianco Celesti Nella speranza Che ovviamente Possano Avere delle possibilità Per la Champions Sono sicuramente I miei favoriti Non nel senso Che credo Vadano Ma i miei preferiti Per quanto riguarda i pronostici Secondo me Il Napoli Ha delle possibilità In più Non credo ci siano dubbi Sull'accesso Del Milan A parte oggi Mentre la Juve La vedo Un po' in difficoltà Ma comunque Oggi ha vinto E non mettiamo in dubbio Le altre possibilità Che ha L'Inter In Champions Ci stanno Vabbè Io credo che Non ci siano dubbi Sulla strada Che poi stiamo prendendo Però questi due punticelli Non tanto quello con il Napoli Quanto quello di stasera Mi fanno arrabbiare Sanchez È entrato Abbastanza bene Young Si è visto poco Io avrei messo anche un Sensi Perché Varela Zoppicava dal primo tempo A Kimi oggi Finalmente mi è piaciuto Mi era piaciucchiato anche Nelle ultime due gare Altrimenti era un mese Che giocava male E la difesa bene Non me la prendo Possamir per il gol Lukaku e Lautaro Soprattutto Big Rom Stasera Potevano fare un po' di più Dai ragazzi Domenica alle 3 Giorno della liberazione 25 aprile Inter Verona Liberiamoci nel giorno Della liberazione Da questa parigite Del cacchio Che sinceramente Non vorrei che ci attaccasse Come qualche anno fa Sempre e comunque Forza Inter Dai e dai Andiamo avanti Spaniamo bene Grazie a tutti